Questa è l'immagine della terra che si vede, ma nell'ultimo sacco di terra che ho comprato in questa catena di supermercati la terra non era affatto così, era piena di pezzetti di plastica, di buste di plastica come quelle che si vedono nella terra dei fuochi. E adesso apriremo insieme questa busta di terra, terriccio universale. Per fortuna sembra che qui non ci sia, meglio così, meglio così, grazie. No, eccola, 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 terra dei fuochi, sacchi della spazzatura, vedo che non cambia molto, ce ne erano di più in quell'altra. Beh, può bastare? Posso fidarmi di questa terra? Potrò piantarci qualcosa da mangiare? Però vedremo ancora. Grazie.